La gestione dei rifiuti è un dibattito molto sentito in provincia di Lecco anche per gli sviluppi della gestione di Silea. Democrazia e partecipazione propone una serata presentando il modello Contarino, ovvero un sistema che permette di recuperare buona parte dei rifiuti e di fare utili con questo. Già da tempo il dibattito anima la politica locale del nostro territorio, nel senso che si sta cercando di capire e di conoscere a fondo quali possano essere le alternative all'incenerimento dei rifiuti per il trattamento degli stessi. Come lista provinciale ma anche come amministrazioni locali sentiamo molto forte questa esigenza, cioè quello di capire qualcosa in più sulle buone pratiche che sono state messe in campo e che sono già state pubblicizzate anche a livello nazionale. Questa è una serata nella quale tutti noi avremo la possibilità di conoscere le buone pratiche appunto messe in campo da Contarina che risulta essere un'azienda che da tempo si occupa della gestione dei rifiuti in maniera alternativa e avere appunto un'alternativa a quel processo che molto spesso purtroppo viene definito come ineluttabile che è quello dell'incenerimento dei rifiuti. La serata si terrà in sala Ticozzi grazie al contributo anche della provincia di Lecco. Mercoledì 14 giugno alle ore 21 avremo due ospiti, il presidente e il direttore generale dell'azienda totale capitale pubblico di Contarina. Come consigliere provinciale del gruppo Democrazia e Partecipazione ho depositato nello scorso mese di aprile una richiesta di ordine del giorno per la tenuta di un referendum consultivo a livello provinciale sul tema del teleriscaldamento. Tale ordine del giorno dovrebbe essere discorso nel prossimo Consiglio provinciale in programma a fine giugno.